Nelle politiche sociali del Comune di Portoferraio l'edilizia residenziale pubblica è uno dei più delicati. La Giunta portoferraiese, proprio nei giorni scorsi, ha approvato una delibera di indirizzo al settore politica e sociali ed abitative per stabilire competenze e criteri sui percorsi da intraprendere nel settore. L'atto di indirizzo che è stato predisposto dalla Giunta ha lo scopo di riorganizzare il sistema della presa in carico della questione e delle gestioni legate agli alloggi del patrimonio aereo. Chiaramente all'interno delle procedure ci sono diversi soggetti che concorrono poi alla predisposizione e alla realizzazione anche delle procedure stesse. Ci sono gli uffici di CASAB, ci sono gli uffici CASA del Comune, c'è l'ufficio tecnico-comunale, c'è l'ufficio del corpo di polizia municipale. Quindi ci sono tutta una serie di soggetti che chiaramente devono coordinarsi dentro un meccanismo anche di collaborazione, concertazione, verifica di banche dati, che nel momento in cui sono più costanti e ripetute, chiaramente è un modo anche per snellire le procedure. Fino ad oggi diciamo che questa organizzazione non era stata tra virgolette istituzionalizzata, l'atto di indirizzo ha la finalità proprio di predisporre anche un sistema organico e organizzato di lavoro che possa portare in tempi molto più rapidi alle soluzioni del problema CASA che è un problema che abbiamo ben presente sul quale stiamo lavorando da tanti anni, ma è chiaro che la volontà del Comune è sicuramente quella di dare la risposta ai cittadini e di dargli una casa. I cittadini devono anche capire che il Comune è per certi versi, proprio da convenzione, perché la legge prevede questo, e in alcuni casi ha la possibilità solo di interlocuire con l'ente gestore, che in questo caso è CASA. E quindi la dilatazione dei tempi e nello svolgimento delle procedure comporta spesso dei ritardi che non sono sicuramente imputabili al Comune, ma che sono imputabili ai tempi, all'organizzazione, alla calendarizzazione dei lavori di CASA, che ricordo è la società che comunque gestisce il patrimonio ERP di tutti i comuni della provincia di Livorno, quindi a partire da Livorno a venire in giù. Da ora in poi si tratta di individuare eventuali procedure per sveltire i lavori e quindi le assegnazioni degli alloggi. La scorsa settimana abbiamo incontrato i vertici di CASA, proprio anche per risollecitare qualcosa che da tempo stavamo sollecitando. Gli uffici stanno verificando alcuni passaggi, però molto probabilmente arriveremo a una soluzione dove il Comune di Poltoferraio stanzierà a bilancio delle somme da mettere a disposizione a CASA, che chiaramente a quel punto effettuerà i lavori fuori dal calendario ordinario dei lavori previsti per tutta la provincia e questo chiaramente ci consentirà di avere in disponibilità gli alloggi il prima possibile, di poter dare scordimento alle graduatorie ad oggi esistenti e quindi poi nella sostanza di dare delle risposte anche più rapide ai cittadini. Avete già quantificato una somma da poter mettere a disposizione? Indicativamente potrebbero essere intorno ai 100.000 euro. Indicativamente potrebbero essere intorno ai 100.000 euro.